No, non sono d'accordo con lei. Penso che il Catanzaro oggi ha fatto una grande partita. Penso che ha creato, non lo so, forse 38 occasioni da gol. Un esempio, non 38 occasioni da gol. Penso che la squadra abbia creato molto, abbia fatto molto. Forse non siamo riusciti a segnare. Abbiamo preso gol alla prima occasione. Penso che prima o poi non possono andare tutte le partite così. Prima o poi penso che vinceremo e sbaglieremo di meno. Certo, certo, certo. Ma le giornate diminuiscono e meno il tempo. Però stiamo creando tanto. Forse non stiamo raccogliendo i frutti che ci meritiamo. La squadra sta andando tanto e penso che oggi non meritava di uscire sotto i fischi. No, ma all'esclusione non ci sono problemi perché siamo 30 giocatori quindi le scelte del mister vanno accettate. Poi avevo preso anche una brutta botta vicino al ginocchio e forse era anche giusto riposare un pochino perché ci stanno tre partite in una settimana. Sono entrato e ho cercato di dare il mio contributo alla squadra. Fortunatamente sono riuscito a fare gol e abbiamo agguandato un pareggio sicuramente meritato.